Musica Spatte la testa e si incastra fra le lame della moto zappa 95enne muore mentre fresa il terreno in località Cannelle di Fano Le Marche hanno i numeri per rimanere in zona gialla, lo ha confermato il governatore Acquaroli che però richiama alla massima attenzione il dato delle terapie intensive resta stabile e domani il verdetto dalla cabina di regia Da sottopasso di Ponte Sasso cadono calcinacci e pezzi di intona con l'allarme dei residenti preoccupati per l'incolumità L'assessore Tonelli rassicura interverremo ma non ci sono problemi strutturali Rivoluzione parcheggi sul lungomare di Fano, partiti, lavori per i 300 stalli blu La Lega attacca e il Comune chiede di bloccare l'intervento Arrabbiati residenti e commercianti Noi dove le mettiamo queste macchine? Non lo so Dobbiamo mettere lì e poi stare sempre con due ore, un'ora e poi prendersi magari una multa da 70, non so, quella 60-70 euro quello che può essere, è impossibile Lo stadio Mancini di Fano ha un nuovo impianto di illuminazione Ecco le torri faro alte quasi 40 metri L'impianto ora può ospitare anche le partite ufficiali di Serie C 70 anni di storia e di generosità Una rotatoria di Fano verrà dedicata all'Avis Ai donatori di sangue coinvolti, gli studenti delle scuole superiori che potranno presentare i bozzetti verranno premiati i tre progetti migliori Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Apriamo con il tragico incidente che si è verificato questa mattina intorno alle 10 in località Cannelle nel comune di Fano dove un uomo di 95 anni, Admo Talamelli è finito tra le lame di una fresa mentre stava lavorando un terreno immediati soccorsi da parte del 118 e dei vigili del fuoco di Fano che hanno liberato l'uomo ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare Pare che a macchinario spento l'anziano sia caduto e abbia sbattuto la testa sulla fresa è ancora però da stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto ma di certo l'uomo si è ritrovato con il braccio sinistro bloccato tra le lame sul posto la polizia e gli ispettori del lavoro che indagano sul caso E adesso la pagina della sanità Oggi il presidente delle marche Francesco Acquaroli ha confermato che le marche hanno i numeri per rimanere nella fascia gialla ma il dato delle terapie intensive resta stabile Invece Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona, interviene sul coprifuoco Un dibattito surreale ha detto e il vero tema è quello dei vaccini Io prima di anticiparlo voglio avere la comunicazione ufficiale però i numeri ci dicono che siamo in una situazione di stabilità e credo in zona gialla In attesa della comunicazione ufficiale che arriverà domani dalla cabina di regia il governatore Francesco Acquaroli ha oggi anticipato la probabile permanenza della regione nella fascia meno restrittiva I dati infatti confermano un buon andamento della curva epidemiologica ma il virus circola ancora, ha ricordato il presidente che ha fatto riferimento ai pazienti in terapia intensiva Voglio anche dire, però questo ci tengo a dirlo che la discesa che abbiamo visto le settimane scorse non c'è più nonostante una vaccinazione che è continua il numero delle terapie intensive resta stabile quindi io invito tutti alla massima attenzione con la fiducia su un'altra settimana di zona gialla ma con anche l'attenzione rivolta a una pandemia che ancora ci rappresenta Questa mattina Acquaroli ha risposto alle domande dei giornalisti a margine degli stati generali dell'ente parco del Conero ai quali ha partecipato anche Valeria Mancinelli il sindaco di Ancona è intervenuto sul coprifuoco che al momento resta alle ore 22 la svolta, detto, dipende dal piano vaccini È veramente un dibattito surreale perché io capisco perfettamente che poter andare a cena al ristorante e dover rientrare alle 10 di sera non è il massimo anche se vedo che la gente si sta giustamente adeguando va a cena un po' prima e torna a casa un po' prima però non mi sembra francamente un tema così tra l'altro se il tema vero è le vaccinazioni ma andare avanti le vaccinazioni perché se no facciamo la fine della Sardegna è chiaro a tutti allora se si vuole davvero e tutti lo vogliamo perché non è che c'è qualcuno che è così cretino da pensare che sia cosa buona e giusta a tenere la gente chiusa dentro casa è evidente che bisogna andare avanti rapidamente le vaccinazioni se vanno avanti così prima è parso di capire che si andrà anche a un allentamento degli orari eccetera eccetera mi pare una cosa ma insomma non mi pare che il destino dell'Italia sia impiccato alle 22 alle 23 per essere proprio chiaro per l'estate poi il sindaco spera in una stagione migliore dello scorso anno anche se non è andata malissimo ha dichiarato Mancinelli ma gli effetti li abbiamo pagati dopo se si riesce ad andare avanti con questi ritmi sul piano delle vaccinazioni non c'è dubbio che questo ci consentirà di avere un'estate e dunque una stagione turistica che per noi non è solo svago è economia, è pille, è lavoro e poi questa zona soprattutto ci consentirà credo di avere una stagione turistica decente E adesso l'aggiornamento sul coronavirus nelle Marche nell'ultima giornata sono morte tre persone tra cui un pesarese di 86 anni i nuovi positivi sono 282 più di un terzo in provincia di Pesero Urbino che è in testa con 122 casi invece negli ospedali della regione ci sono 21 pazienti in meno rispetto a ieri in lieve calo ed agenti in terapia intensiva che scendono a 65 mentre quelli in semi intensiva sono 112, meno 11 in 24 ore Ancora cronaca tre operai sono rimasti feriti dopo esser caduti dal tetto di un'abitazione sulla quale stavano lavorando l'incidente è avvenuto ad Amendola in provincia di Fermo secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco sembra che sia stato un crollo parziale della struttura a provocare la caduta degli uomini due di loro hanno riportato diverse fratture mentre il terzo è in condizioni più gravi è stato trasferito con l'eliambulanza all'ospedale di Ancuna i tre operai di una ditta di Foggia stavano lavorando nel cantiere per la realizzazione di una trentina di alloggi per i terremotati sul posto anche il sindaco Adolfo Marinangeli i mezzi di soccorso, i carabinieri e le autorità sanitari torniamo a Fanno sul lungomare sono partiti i lavori per trasformare i parcheggi in aree di sosta a pagamento oggi abbiamo sentito il parere di residenti e commercianti che però sono contrari a questa rivoluzione da bianchi a blu saranno 311 gli stalli del lungomare che cambieranno colore dal primo giugno fino al 15 settembre diventeranno a pagamento sette giorni su sette festivi compresi dalle 8 alle 20 si pagherà 1 euro e 20 all'ora ma più sarà lunga la sosta e meno sarà la cifra necessaria ad esempio l'intera giornata costerà 10 euro i lavori sono cominciati in zona Sassonia dove sono previsti in totale 195 stalli blu sia a lungo via l'Adriatico sia nei tre grandi parcheggi in direzione Porto inoltre 25 saranno riservati ai disabili e i 13 al carico e allo scarico delle merci domani invece Aset inizierà l'intervento anche a Lido di Fano dove sono previsti 116 parcheggi a pagamento oltre a 10 per i disabili e 3 per lo scarico delle merci alla fine della stagione poi verrà mantenuto il colore blu delle strisce ma i parcheggi torneranno gratuiti si tratta di una rivoluzione voluta dal comune di Fano e annunciata già da tempo ma che non piace ai commercianti che abbiamo sentito questa mattina vi sentite penalizzati o siete a favore? sicuramente è una cosa che penalizza noi esercenti comunque sia anche per noi che veniamo a lavorare sinceramente cioè chi viene a lavorare qui è costretto a prendere la macchina deve spendere praticamente la metà di quello che ha lavorato per il parcheggio non mi sembra affatto giusto in più i parcheggi non è che sono chissà quanti mettiamoli anche a pagamento è un po' una cosa che ci va contro insomma quindi no non sono per niente d'accordo non siamo contenti perché perdiamo il nostro lavoro e già è un periodo difficile da affrontare oltre che con il covid è stato un periodo molto molto difficile e non vorremmo che quest'estate sarà ancora più difficile per questo modo qua io con i miei colleghi sono molto legata per non avere il parcheggio a pagamento perché ci può danneggiare molto questo sì io avrei evitato visto anche l'esiguo numero dei posti di fare le strisce blu io avrei fatto molto meglio dei parcheggi tipo zona campo aviazione con delle navette continue che consentono la mobilità continua di chi vuole venire in spiaggia e sta fermo tutto il giorno perché ho letto le tariffe per esempio per stare un giorno fermo ci vogliono 10 euro è già uno che viene in spiaggia e spendere 10 euro solo per il parcheggio non mi sembra poco noi già subiamo comunque rispetto ad altre città una cioè abbiamo una brutta situazione anche con la red urbano specialmente quella a Sassonia quindi quello si potrebbe evitare però se ormai questa è stata la scelta definitiva bisognerà che il comune trova una soluzione per i residenti e ci si penserà poi successivamente e il cambiamento in atto su lungomare di Sassonia non piace neanche ai residenti tant'è che qualcuno ci hanno riferito ha organizzato anche una raccolta firme nel frattempo proseguono i lavori nella strada parallela in Viale Dante a Lighieri dove il comune ha avviato una riqualificazione per evitare la sosta selvaggia e il parcheggio a spina di pesce gli stalli infatti saranno paralleli alla corsia di marcia lasciando a Lato Monte un percorso di tre metri per i pedoni hanno studiato mi sa io penso che hanno studiato minimo hanno fatto l'università sì perché è una cosa che qui non lo so uno che ci arriva un pochettino deve capire una cosa che qui già innanzitutto ci passano le barche che già è un problema con le barche quelle grosse in più adesso che ci mettono addirittura i parcheggi a pagamento penalizzano penalizzano innanzitutto a chi ha un'attività qui perché tanto vuoi non vuoi penalizza perché uno che dice non ci va cercano un altro posto io non lo so chi è a favore è un residente? sì sì in via Dante Lighieri purtroppo i palazzi sotto abbiamo dei garaggi però i garaggi erano strutturati una volta per mettere una 500 quindi i posti con una macchina come sono adesso non ci sono più dobbiamo mettere le macchine fuori allora con tutti questi della fila qua tutti quelli della fila là io vorrei dire alla giunta per cortesia fateci dei parcheggi anche noi dove possiamo mettere la macchina perché il problema è dove mettiamo la macchina che cosa ne pensa dei parcheggi a pagamento? diciamo è un po' secondo me è troppo esagerato magari sarebbe bello mettere con il disco orario essendo però controllati io poi fra l'altro faccio parte di un'associazione che i ragazzi disabili dovrebbero va bene hanno il loro posto però non sono molto sufficienti diciamo dovrebbero essere un po' di più specialmente adesso che viene l'estate eccetera e contraria alla scelta dei parcheggi a pagamento anche i consiglieri della Lega Fano che chiedono di bloccare immediatamente i lavori dopo la lungimirante idea del vivaio nell'area dell'ex Agip che danneggerà le attività economiche del centro storico ecco un altro aiuto a famiglia e attività gli stalli blu a Lido e alla Sassonia la Lega Fano torna alla carica e critica la scelta dell'amministrazione comunale di trasformare tutti i parcheggi del lungomare a pagamento da questa estate i consiglieri chiedono di bloccare i lavori iniziati da poco e di rinviare la scelta al prossimo anno è difficile dire ai cittadini le motivazioni che hanno portato a questa decisione perché è una decisione che sicuramente non giova ai residenti che avvedono questo pagamento come una scocciatura sicuramente non giova e non gioverà ai turisti perché non capiranno la convenienza di dover parcheggiare qui e poi continuamente intervenire per aggiornare la tariffa e non giova nemmeno ai commercianti e alle imprese del territorio perché vedranno diminuire l'accesso dei turisti e dei clienti perché questa soluzione non migliora l'accessibilità a questa zona quindi praticamente è un depauporimento a chi giova lo sappiamo serve semplicemente per aumentare la cassa fare cassa alle spalle dei cittadini e degli utenti inoltre per i consiglieri dopo il flop dei parcheggi a pagamento lungo via Le Gramsci che stanno continuando a provocare disagi il comune ha preso un'altra decisione senza aver coinvolto i residenti e le attività economiche vergognoso hanno dichiarato che in un momento come questo la giunta di centro-sinistra preferisca aggiungere un'ulteriore tassa non contenta dei 16 milioni di avanzo come Lega hanno scritto in una nota avevamo proposto di realizzare dei parcheggi con disco orario per permettere una maggiore rotazione oppure di predisporre delle navette nei parcheggi scambiatori in particolare per i turisti e chi raggiunge la zona balneare dall'entroterra ma siamo stati inascoltati ed erisi voglio anche ricordare e non dimenticare le persone più deboli anziani oppure famiglie numerose che ovviamente dovendo venire al mare hanno problemi a dover parcheggiare lontano quindi ecco diciamo c'è la solita carenza di questa amministrazione che non ha una visione che non propone dei progetti ad ampio respiro ma risolve il problema spot senza trovare una soluzione ottimale quindi praticamente scontenta tutti e fa contento solo le casse del comune la procura generale di Ancona fa appello al tribunale del riesame per evitare che a Claudio Pinti siano concessi gli arresti domiciliari dopo la terza istanza presentata dalla difesa dell'autotrasportatore di Monte Carotto condannato a 16 anni e 8 mesi per omicidio volontario dell'ex compagna morta di AIDS e lesioni gravissime all'ex fidanzata per aver trasmesso alle due donne l'HIV con rapporti non protetti senza informarle che era siero positivo la corte di Assisi aveva accolto la richiesta dei domiciliari presentata dall'avvocato dettata anche dalle condizioni di salute di Pinti incompatibili con il regime carcerario entro il 10 maggio Pinti può tornare a casa con il braccialetto elettronico se poi il riesame accoglierà la richiesta della procura l'uomo dovrà tornare in cella e adesso ci spostiamo a Pesaro il comune è pronto a monitorare gli studenti pesaresi lo hanno annunciato il sindaco Matteo Ricci e gli assessori si parte lunedì dalle scuole medie poi si proseguirà nelle superiori come negli screening precedenti i ragazzi che risulteranno positivi ai test rapidi verranno subito sottoposti al molecolare questo hanno spiegato oggi assessori e sindaco è per dare sicurezza alle famiglie a limitare i disagi provocati dalle lunghe quarantene accorciando i tempi di attesa torniamo a Fano perché proseguono i lavori allo stadio Mancini per un nuovo impianto di illuminazione Filippo Pucci è partita questa mattina l'installazione del nuovo impianto di illuminazione dello stadio Mancini di Fano il progetto prevede la completa sostituzione delle torri faro presenti nell'impianto con delle nuove strutture alte 36 metri distribuite nei quattro angoli del terreno da gioco a verificarne l'andamento delle operazioni il vice sindaco Cristian Fanesi che questa mattina ha fatto un sopralluogo della struttura sportiva nel quartiere di San Lazzaro sono quattro torri di 36 metri in acciaio dal peso ciascuna di 7.000 kg che questa mattina saranno issate erette presso lo stadio Mancini e certamente sono necessarie per rendere ancora più luminoso lo stadio Mancini e per incontrare requisiti della Lega Pro sono 24 proiettori in ciascun palo in quelle a nord quelle alle mie spalle e sono 18 proiettori invece in quelle posizionate lungo via Vivaldi con questo intervento prosegue poi Fanesi la struttura potrà ospitare anche manifestazioni sportive in orario notturno inoltre è previsto anche il rifacimento delle linee elettriche di tutti gli ambienti della struttura comprese i settori gradinata un lavoro molto importante la GM Costruzione di Fano che ha vinto l'appalto del rifacimento del nuovo stadio attività che ha comportato anche la riqualificazione della tribuna ospiti da 500 posti sempre lungo via Vivaldi la GM Costruzione ha lavorato benissimo sta concludendo questo lavoro insieme alla ditta Pali Campion che è appunto la ditta che ha vinto il subappalto per l'erezione di queste torri un lavoro anche dal punto di vista tecnico molto impegnativo ringraziamo quindi le ditte l'ingegnere Talozzi come direttore lavoro i tecnici del comune di Fano e la società Alma Juventus Fano Calcio che ha collaborato pazientemente con tutte le attività che sono girate intorno lo stadio Mancini e anche residenti di San Lazzaro perché da qualche giorno hanno occupato i pochi parcheggi che ci sono da queste torri che appunto crediamo e speriamo si possano installare tra oggi e domani in maniera definitiva un lavoro molto importante di cui siamo certamente contenti il campo così facendo incontra tutti i requisiti della Lega Pro quindi un'operazione importante da tempo attesa e che oggi concludiamo in maniera efficace Diamo spazio alle vostre segnalazioni perché diversi telespettatori ci hanno inviato foto e video per denunciare il distaccamento di calcinacci in tonaco da un sottopasso a Ponte Sasso di Fano l'assessore Tonelli però rassicura interverremo ha detto ma non ci sono problemi strutturali calcinacci che si staccano e crollano dal sottopasso di Ponte Sasso è l'allarme lanciato dai residenti che in questi giorni ci hanno inviato foto e video per segnalare lo stato di degrado dell'opera e la loro preoccupazione si sta sbriciolando ci ha scritto il reporter di strada si vedono i ferri arrugginiti in diversi punti e fortuna che non è passato nessuno quando sono caduti quei pezzi di cemento ad annunciare un intervento è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Fano Fabiola Tonelli primo sottopasso dalla parte sud che è quello di Ponte Sasso sottopasso carrabile stiamo lavorando perché appena abbiamo una ditta disponibile andremo a verificare gli intonaci che si stanno in questo momento staccando strutturalmente il ponte non ha problemi quindi ci sono questi piccoli cadimenti di questi intonaci e noi andremo a battere ed eventualmente poi a risistemare cercando di ripristinare anche in questo caso un ponte diciamo decoroso sia la parte interna carrabile ma anche la parte esterna pedonale andremo a risistemarlo la regione conferma per i prossimi tre anni il servizio di dialisi riservato ai turisti che scelgono le marche per soggiornare a partire da questa estate la prestazione verrà garantita l'intero anno dunque dal primo gennaio al 31 dicembre sulla base degli ultimi dati disponibili quelli pre-covid nelle marche nel 2019 sono state effettuate 1300 prestazioni a fronte delle 1440 del 2018 e delle oltre 1200 del 2017 sono state 509 quelle realizzate in orario notturno una rotatoria verrà dedicata ai donatori di sangue e plasma la visdifanno coinvolge gli studenti delle scuole superiori della città per realizzare i bozzetti che verranno poi valutati da un'apposita commissione abbiamo presentato con tanta gioia ed energia verso la sala della concordia del comune di Fano grazie alla collaborazione del sindaco Massimo Seri e dell'assessore Barbara Brunori il nuovo progetto Avis a scuola il nostro referente Giuseppe Franchini l'ex preside ha presentato il bando per realizzare una bellissima rotatoria la rotatoria verrà realizzata grazie a bozzetti a progetti fatti dagli studenti delle scuole superiori di nuovo Avis Fano e le scuole del nostro territorio unite per la sensibilizzazione della cittadinanza attiva e della promozione del dono presto oltre alle panchine oltre al bosco dedicato ai donatori e oltre al bellissimo logo realizzato per il settantesimo gli studenti ci stupiranno con un bellissimo progetto per abbellire e arredare la nostra città con un simbolo del dono il bando verrà realizzato il prossimo anno anno scolastico quindi entro il 2021 gli studenti dei quattro istituti fanesi il donorione il polo 3 il liceo scientifico e il liceo artistico a Polloni di Fano saranno impegnati per realizzare questo progetto Avis Fano ha dedicato anche energie economiche come facciamo per il logo e verranno quindi premiati i migliori studenti e logicamente un supporto alle scuole vogliamo rinnovare a tutti l'invito di partecipare alla prossima assemblea che si terrà sabato 8 maggio la cooperativa Tre Ponti e ricordatevi che è importante anche votare il nuovo consiglio potete venire in sede sabato pomeriggio e domenica mattina per l'assemblea elettiva e con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale grazie per aver seguito occhio alla notizia buona serata a tutti voi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti